musica 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 signore bidardi tra qua e tra qui musica 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 oh Luca ciao ciao Marco come va? bene bene e tu? male sai che sono andata a Berlino per lavoro no? e sono caduto e mi sono rotto la gamba non è che mi potresti mandare la tessera sanitaria? sai qual è no? sì certo dove è? è nel cassetto vicino al letto ok l'ho trovata trasferisco subito ciao ciao grazie grazie a tutti Grazie a tutti.